Verrà tristemente ricordato come il brawler di cui non ho mai trovato la star power quando era forte Ragazzi, qua fa veramente male Nerfone, nerfone a Surge per quanto riguarda la sua star power più utilizzata, la prima Ehi là, gente! Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Come ti ha il titolo, oggi si parla di bilanciamento e lo so, potrà suonare un pochettino così Ma è quello che penso veramente su questo bilanciamento, questo sì che è un bilanciamento Quello di prima, alla fine, sì, mi era piaciuto quando ve l'avevo presentato Poi chi mi ha seguito in live ha visto che effettivamente il meta non si è mosso, era stato lì fermo Anzi, alcune volte Surge e Gale mi rompevano anche un po' di più le scatole, onestamente E quindi, insomma, speriamo che questa volta quelli di Brawl Stars siano stati un pochettino più drastici Andiamo a vedere insieme cosa hanno combinato Ed eccoci tornati ragazzi sul nostro iPadino Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che ci sono tre metodi semplicissimi, gratuiti e soprattutto veloci Per supportare quello che faccio ragazzi Il primo è un bel pollucione in su sotto questo video Un bel mi piace anche per voi per far capire all'algoritmo di YouTube Che vi interessa questo tipo di contenuti e che volete restare aggiornati sui prossimi aggiornamenti Il secondo, il codice ferro all'interno dello shop Quello lo potete addirittura mettere giocando a Brawl Stars E non vi costa assolutamente niente E il terzo ragazzi è il primo link in descrizione Vi permette di abbonarvi gratuitamente a Twitch Prime Dove appunto streammo tutti i giorni Dove ho scoperto, come dicevo poco fa, che il bilanciamento l'ultimo non era poi così incredibile E lì veramente potete supportarmi un sacco Perché cliccando una sola volta su quel link Sbloccherete l'iconcina di Amazon Prime Se avete Amazon Prime infatti potete abbonare gratis ogni mese Ogni mese potete andare sul canale Twitch E fare l'abbonamento totalmente gratuito Perché nel vostro Amazon Prime O anche quello di un amico È già incluso, banalmente, ce l'avete già Bene, ma detto questo cominciamo subito col bilanciamento ragazzi E la novità principale di questo bilanciamento Ve la posso semplicemente comunicare così Brawl Stars ha lavorato seriamente per migliorare un problema che in tanti lamentano Non vi è mai capitato di andare a tirare un sacco di pugni a un brawler Magari con il primo E arrivare ad avere tanto così dalla ulti caricata Ma proprio un filino, un capello Ma la ulti non si è caricata Ecco, una roba del genere Non vi è mai capitata E capita molto spesso E beh, da adesso non capiterà più Ma voi direte, ti è appena capitato? Sì, infatti sono sul mio account normale ragazzi Questo qua è Brawl Stars Come lo conoscete voi Vedete, non c'è nessuna novità È quello originale Ma qui, sull'account sviluppatore Tra l'altro che ho l'occasione per ringraziare Supercell Che ogni volta fornisce a noi partner L'account sviluppatore per portarvi le novità in anteprima Qui ragazzi possiamo provare un Brawl Stars Dove questo non succede E voi direte, vabbè è una cavolata No, ma assolutamente no Perché hanno dovuto cambiare effettivamente Il funzionamento di caricamento delle ulti Di quasi ogni brawler Iniziamo, capirete sicuramente meglio Il primo è Barley Viene aumentato leggermente il tasso di ricarica della Super Con l'utilizzo della Super stessa E qua cominciate a capire che è un po' complicato I brawler si caricano le loro Super Sia con i colpi normali Che con le loro stesse Super Se io lancio una bottiglia con Barley Mi caricherò un pezzo di ulti Ma se io lancio la ulti di Barley Mi caricherò già un pezzo della ulti successiva Uno dei proverbi che c'è utilizzando Rico Che è un brawler che rimbalza molto E quindi deve arrivare a colpire tutti È Una buona ulti con Rico È tale Quando con una ulti Te ne ricarichi un'altra Non si nota, vero? Che Rico è il mio brawler preferito Forse un pochettino Quindi Sintetizziamo perché siamo solamente al primo Barley Utilizzando la sua Super Non dovrebbe più incappare In questo problema Di arrivare con un capello Dalla Super successiva Stessa cosa succede per Carl La sua Super Si ricarica un pochettino di più Il tasso di ricarica è aumentato Utilizzando la Super stessa Passiamo a qualcosa di un pochettino più complicato Colt Nel caso di Colt Il tasso di ricarica della Super È leggermente più basso Con il colpo normale Quindi quando sparate con Colt Ci vorrà veramente Leggermente ragazzi Un pelino di più A caricarla ulti Mentre con la ulti Sarà leggermente aumentato Quindi sarà un attivino più facile Caricarsi la ulti Utilizzando appunto la ulti di Colt Non sono bilanciamenti Che modificano drasticamente Il funzionamento del brawler Ma vanno a evitare Questo problema Sempre del capello Per caricarsi la ulti Coppia e incolla Per quanto riguarda Jesse Tasso di ricarica ulti Con il colpo normale Leggermente abbassato Con la Super Con la torretta Leggermente aumentato Con Bo Abbiamo un esempio Ancora più oggettivo Viene leggermente aumentato Il tasso di ricarica Con il colpo normale E leggermente diminuito Il tasso di ricarica Con le mine Essendo il colpo di Bo Molto più semplice Perché spara 3 frecce Possiamo dire Che con 3 colpi completi Quindi 3 per 3 9 frecce Ok? Ci andiamo a caricare la ulti E con 3 mine complete Per 3 ulti Quindi 9 mine di Bo Andiamo a caricarci Un'altra ulti Complichiamoci ancora Un pochettino la vita Col bilanciamento di Bull Allora Tasso di ricarica Del colpo normale Leggermente aumentato Tasso di ricarica Della ulti Aumentato Quindi proprio aumentato Non viene specificato quanto Ma c'è un aumento Quindi con la ulti di Bull Sarà più facile caricarsi La ulti Effettivamente E in più Abbiamo anche un bilanciamento Statistico Infatti Se andiamo Qui Vediamo che Ha ben 7000 Punti salute Gli esempi dei bilanciamenti Sono sempre fatti Con il livello 1 Però Capitemi Bull passerà Da 4900 Punti salute A 5000 Quindi ipotizzo Che adesso Nel momento attuale Bull sarà leggermente Sotto i 7000 Sì infatti Come potete vedere Sta sui 6860 Situazione molto più semplice Su Daryl Il livello 1 Passerà da 4800 Punti vita A 5000 Punti vita Basta Un aumento Semplice Livello maxato Arriverà anche Lui a 7000 Punti vita E in effetti I tank Erano usciti Un po' fuori dal meta E quindi già ragazzi Cominciamo a vedere Un qualcosa Che mi interessa Cioè che i tank Effettivamente Rientrano nel meta Quindi sì Le ulti Fanno meno Quello scherzo lì Che era Intriguerosissimo Ma abbiamo anche Un buff Sui tank Prima nota Dynamite Tasso di ricarica Della super Leggermente Aumentato Con i colpi Normali Ora Li bastano Due colpi Completi Vi ricordo Che un colpo Di dynamite Sono due Candelotti Quindi con Quattro Candelotti Vi fate La ulti Dynamite E il costo Ragazzi E scusate Voglio dire E il primo Ragazzi Non so come Mi è uscito Questo è il costo E il primo Ragazzi Tasso di ricarica Della super Aumentato Da 10 A 9 Colpi Quindi qua Non è leggermente Gli basterà Un pugno In meno Per caricarla Ulti Ok Quindi Altro tank Che viene Buffato Attenzione Tasso di ricarica Della super Anche lì Aumentato Da 5 A 4 Colpi Con l'attacco Della super Quindi Effettivamente Con 4 jump Ci andiamo a caricare Una ulti Ok E' impossibile Usare 4 jump Di seguito Almeno che uno Non abbia la torretta Di bo Quindi Per forza di cose Calcoliamo Che con un jump Ci andiamo a caricare Un quarto esatto Se la matematica Non è un'opinione Della Prossima ulti Attenzione però Perché c'è un altro Buff Infatti Il suo Nuovo gadget Che abbiamo visto In anteprima Sul canale Come sempre Cintura Di asteroidi Verrà Aumentato In quello che è Il raggio Di azione Che aumenterà Dell'11% Ragazzi Quindi anche qua Una cosa Considerevole Passiamo a Ems Ecco Ems Se avessi dovuta Presentare Come primo brawler Non ci avrebbe capito Niente Nessuno Invece adesso Do il concetto Un pochettino Più Per assodato In poche parole Il tasso Il tasso di ricarica Della super È migliorato Sui colpi Normali Ci vorranno infatti Tre colpi Completi Per caricarsi In ulti Che cos'è un colpo Completo con Ems Visto che si tratta Di una bomboletta Spray Si tratta Di un colpo Che per tutta La durata Di questa nube Ecco Mantiene al suo interno Il target Ok Quindi io spruzzo Il mio veleno Con Ems E il mio obiettivo Rimane dentro Questa nube Per tutto Il tempo Possibile Quello è un colpo Completo È molto più difficile Con Ems Mi ne rendo conto Quindi Ci vorranno Probabilmente Spesso E volentieri Più di tre colpi Per caricarla Jin Tasso di ricarica Della ulti Ha aumentato Col colpo principale Tre colpi Completi Che cosa vuol dire Vuol dire Che o lo prendete Col primo Palettone Prima che si divida E altrimenti Quando si divide Il colpo Non è più completo Dovete farvi il conto Dei palettoni Insomma Beccate i nemici E caricatevi La ulti Ok Sarà un pochettino Più semplice Fine della fiera Passiamo a Jackie Anche qua Piccolo buff Che però Non riguarda Il tasso di ricarica Della ulti Tranquilli Ma riguarda L'abilità stellare Infatti adesso Il raggio di azione Di questa prima Abilità stellare Aumenterà Del 50% Attenzione Non confondete Con quel 15% Sono due cose Ben differenti Cioè il 15% È il danno Che viene trasformato Il 50% È l'area Che ci sta Intorno A Jackie Che effettivamente Crea danno A chi La colpisce E se vi piacerebbe Fare il 50% Così Quando non vi tocca E magari Questo video Sarà lunghissimo No scusate Volevo dire Tasso di ricarica Della super Di maxine Aumentato A tre colpi Completi Ragazzi Tre raffiche Complete E vi caricate La ulti Con maxine Mortis Fermi tutti Utiliziamo le antenne Tasso di ricarica Della super Leggermente Diminuito Con l'attacco Principale Ma questo Non cambia Alcuna Interazione O combo Allora Mortis Resterà uguale Ma attenzione Massima Concentrazione Su mortis Il tasso Di ricarica Della super Utilizzando La super Stessa Aumenterà E non di poco Infatti In questo caso Si riuscirà Effettivamente A fare Una combo In più Con mortis Quindi questo Ragazzi Siamo una cavola Ma è un buff Senza senso Sto brawler Perché praticamente Con Due super Attacchi E due Attacchi Principali Ci faremo Una ulti Prima invece Erano tre Attacchi Principali Per questo Ci uscirà Una combo In più Effettivamente Ragazzi Cioè Posso dire La mia Mortis Diventerà Effettivamente Il brawler Che se non lo sai Usare Lascia perdere Se sai usare Sto brawler Ciao Ciao Proprio Questo vorrà dire Che Devo imparare A utilizzarlo In un modo Nell'altro E no Possibilmente Non facendo La settimana Solo mortis Vi prego Passiamo a Nita Ragazzi Cosa vi dico Sempre io Nita Nita è uscita Fuori dal Meta Da quando Gli hanno tolto Un gadget E la gente Che mi dice Ma è fortissima È comunque fortissima Sì è forte Ma è un altro Brawler Guardate un pochettino Qua Torna Il terzo gadget Per Nita E se vi dicessi Pure che Il tasso di ricarica Della super È aumentato Da sette colpi A sei Cioè Proprio letteralmente Un colpo in meno Di quei normali Per caricarsi L'orso E se vi dicessi Anche che il tasso Di ricarica Della super Con la super È aumentato Da undici colpi Dell'orso A dieci colpi Dell'orso Quindi l'orso Tira un pugnetto In meno Che comunque Con corso di sberle Non è un grosso problema E vi caricate L'ultimo ancora prima Pure così L'unica cosa Che viene fatta È che viene aggiunto Un secondo Di delay A zampa D'orso Prima che venga Applicata Allo stordimento Rosa Tasso di ricarica Della super È aumentato Ora Si riempe Con tre Colpi Completi Dell'attacco Principale Quindi tre Rafiche di puni Complete E la ulti Carica Ci mette meno Anche lei Questo mi piace Buff A scegli Ha aumentato La sua vita Da 3600 A 3800 Per quanto riguarda Il livello massimo Arriva a 5320 Punti di danno Che comunque È già Ma ancora più Sopra la media E Tasso di ricarica Della super Ha aumentato Leggermente Ora si riempe Con due Colpi Completi Di quelli Normali Quindi in pratica La scegli che esce fuori dal cespuglio Vi spara due pizze E c'ha già la ulti Ancora più Ancora peggio di prima ragazzi Ci stan le meme su sta cosa Per favore Fixiamo sta cosa Dei scegli che esce fuori dal cespuglio E ti devasta Secondo me Quelli di Brawl Stars Proprio vogliono che sia così Proprio vogliono che sia così Viene compensato un pochettino La cosa Perché il tasso di ricarica Della super Con la super stessa Al contrario Viene leggermente abbassato Passiamo a Spike Brawler che Da quanto abbiamo visto Durante il Brawl Talk Avrà forse una delle skin Più interessanti Durante questo aggiornamento Vabbè Ne parleremo Magari nei prossimi giorni Aumento del danno Dell'attacco principale Da 520 A 560 Per spina Ragazzi Vi faccio vedere Che il livello massimo Arriva ad avere Un danno per spina O per algo In questo caso Di 784 Quindi molto interessante Perché Spike È già un bellissimo Anti-tank In più Il tasso di ricarica Della super Leggermente aumentato Con gli attacchi Della super stessa Quindi Quando utilizzate la super Vi caricate più facilmente La super stessa Tara Altro brawler Molto pericoloso Con la sua super Allora In questo caso Il tasso di ricarica Della super Viene Leggermente aumentato Ma ciò basta Per far sì Che con 4 colpi Completi Ci carichiamo La ulti Un colpo Se non sbaglio Sono 3 carte Quindi 12 carte E la ulti È bella pronta Il grab È tutto bello Lì da lanciare Tic Tasso di ricarica Della super Ha aumentato Leggermente Ora con 2 colpi Completi 3 mine Quindi un totale Di 6 mine Si carica Completamente La ulti Tanta roba Anche qua ragazzi 6 mine Sono veramente Poche da prendersi Passiamo adesso Ai nerf A quelli che sono I brawler Che mi hanno Leggermente Dato un pochettino Più fastidio Durante questo ultimo Meta Vedete il sorriso Ragazzi Partiamo da Mr. P Il tasso di ricarica Della super Viene diminuito Con l'attacco principale Nonostante ciò Basteranno comunque 6 colpi Per caricarsi La ulti Caso invece Contrario Per quanto riguarda Il tasso di ricarica Della super Con Un'altra super Infatti Ci vorranno Ben Da 16 A 18 Colpi Da parte Degli assistenti Per caricarsi La ulti Potevano essere Davvero Molto più cattivi Di così Però è un qualcosina In più Che sicuramente Aiuta E poi passiamo a Pocho Che in questa settimana Brawler è stato Veramente Mostrato in tutta La sua potenza Forse La cura Di Diapason Viene diminuita Da 500 A 400 Punti di vita Al secondo Diapason È il gadget Giusto per capire Che in effetti È un bel aiuto L'abbiamo utilizzato Veramente tanto Durante questa settimana Di push Verrà tristemente Ricordato Come il brawler Di cui non ho mai Trovato la star power Quando era forte Ragazzi Qua Fa veramente male Nerfone Nerfone A surge Per quanto riguarda La sua star power Più utilizzata La prima Prima infatti La star power Permetteva Sempre Di scindere Il colpo In due Ok Adesso questo succede Solo quando Si beccano i muri Ok Ricapitoliamo un attimo La situazione Se surge Becca un nemico Con o senza star power I colpi si dividono Se surge Non becca un nemico Con o senza star power I colpi Non si dividono Se surge Becca un muro Senza star power Non succede niente Con la star power Si dividono Quindi bisogna Rasfruttare un pochettino I muretti Però comunque I muretti Assorbiranno i colpi Non è che ci passano Attraverso Quindi diventerà Un po' più simile A Rico Non sarà un rimbalzo Però diventerà Un pochettino Più simile a Rico Forse Cavolo Questa è veramente Un'ammazzata E io non l'ho ancora Trovata Sta star power Bannaggia Allo shop Di Brawl Stars E poi ragazzi Gelindo Anche qui Cosa vi dicevo io Lo dicevo Un nerf Alla trappola Scatto È troppo forte E infatti ragazzi Arriva Io ormai l'ho pushato Quindi sono contento Diminuita La sfinta Del trampolino Non viene specificato Di quanto Però banalmente Il trampolino Resta uguale Non toccano niente Ma viene ridotta La spinta Vedremo poi Effettivamente di quanto Ve lo farei vedere Volentieri adesso Ma non abbiamo ancora finito Si lo so È senza senso Sto bilanciamento È enorme Adesso capite però Il titolo del video Questo si che è un bilanciamento Signori Mio dio Questa parte del video È dedicata Ai change Ai cambiamenti Ragazzi E qua è drastica Ragazzi La star power Di 8 vite È misteriosamente sparita Non c'è più vita extra La cremuccia Conosciamo la nuova abilità stellare Sostitutiva Che si chiama Plugin Bellissima a livello estetico Quando 8 bit Si trova vicino Il suo potenza danni A modo di migliorare Il suo software E aumentare La velocità di movimento Non viene spiegato Di quanto Però effettivamente È una roba utile Ma alla fine della fiera Sì perché è più veloce Magari si potrà utilizzare Un pochettino di più In Brawl Ball Poi magari fai la combo Perché ti teletrasporti pure Però vita extra Ragazzi È proprio quella Star power Ha fatto la storia Di Brawl Stars Io ho fatto Con vita extra 8 bit Al 1000 Ma non c'era verso Non c'era verso Pure nerfandola Senza un senso Era comunque Comunque Contro Contro natura Perché proprio ti fa rispawnare Anche il showdown solo Passiamo a Dei cambiamenti Per quanto riguardano PAM Io onestamente Questa cosa L'ho notata solamente In questi ultimi giorni Però in effetti È vera La confermo Il raggio Della torretta curativa Di PAM Non è Effettivamente Uguale Nell'aspetto funzionale E visivo Infatti visivamente È leggermente Più grande Di quanto poi Effettivamente cura Questa cosa È stata fixata Visivamente Adesso è un pochettino Più piccola Ma coincide Perfettamente Con L'area di cura Di PAM Quindi anche Restando sul bordo Basta entrare dentro E vi cura Punto Non è che se eravate Sul bordo Effettivamente poi Non vi curava E al tempo stesso È stata ridotta L'area curativa Di generatore di impulsi Che invece Prima Coincideva Con quell'area lì Più grande Ora Essendo ridotta Coincidono Tutte quanti In un'unica area Quindi Senza far tanta confusione Adesso Effettivamente La torretta di PAM È precisa Cura Sia Normalmente Sia Col gadget Nell'esatto Punto in cui Vi fa vedere Ok E concludiamo E concludiamo Con una sorpresina Sì Torniamo Su Gelindo Perché c'è un change Per quanto riguarda La sua star power Vento in poppa È sparita Io l'avevo sfruttata parecchio Per pusharlo al mille E viene sostituita Da Inverno rigido Gelindo Usa le palle di neve Anche per rallentare I nemici Per 0,4 secondi Questa comunque potrebbe essere Molto forte Però diciamo che Nel complesso Tra questo E il trampolino Si dà una calmata Al vecchietto Che era decisamente Troppo forte Insomma Signori Con questo Super bilanciamento E ripeto Questo sì Che è un bilanciamento Siamo giunti al termine Mi è piaciuto un sacco Se non si fosse notato Ci si becca Alla prossima Ragazzi Restate aggiornati Con la campanellina Delle notifiche Perché Insomma Queste novità Lo sapete Arrivano come dei fulmini Sul canale Ci si becca Alla prossima Un salutone Ciao belli Baffone dei miei stivali Ciao Non mi romperai più le scatole In rapina No Non giamperai più Non stunnerai più Ciao